No, signori! Odio i biglietti. Signor Erson, ho provato a fermarli, ma... Non fa niente, Susan. Due bicchieri di acqua glacier con due fette di lago. No, 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 basta con l'acqua. Non siamo qui per questo. No, stavolta me lo sarei bevuto un bicchiere d'acqua. Com'è andata con i Jersey Boys? È stata una cosa fantastica. Lei l'aveva sottovalutato. L'ha messa in scena, i costumi, un gioiello di musical. Ehi, vieni un attimo qui. Ma che ti prende? Perché non siamo qui per questo. Come? Sì, ma... Tattica sbirro buono, sbirro cattivo. Ok? È la tattica più antica per un motivo. Perché funziona. Io con le cattive e tu con le buone. Ci sei? Sì. Io con le cattive e tu con le buone. Ci sei? Ci sono. Adesso stammi a sentire, mezza sega. Se non ti decidi a parlare, ti faccio a pezzi. Come hai nascosto le tue perdite? Eh? Per quale cartello della droga lavori? Che sta dicendo? Voglio parlare con lui. Lui è un tipo ragionevole. No, no, guardami. No, no. Vuoi parlare con me? Vuoi parlare con me? Pronta bastarda? Non ti faccio vedere io. Non ti faccio vedere io. Non ti faccio vedere un piazza di merda umana. Che se ne sta notando da me. Non ti faccio vedere. Non ti faccio vedere. Non vediamo la data. Vieni qui. Scusa, mi dispiace tantissimo. Ho visto il tuo stile aggressivo e ho pensato... Cavolo, devo essere più duro, visto che la tattica sbirro cattivo, sbirro cattivo. Cosa? No, io ho detto sbirro buono, sbirro cattivo. Io sono quello cattivo e tu quello buono. Oh, ecco che è successo. Un errore. Ho capito, sbirro cattivo, sbirro cattivo. Quando sei uscito di testa, guarda che ho preso dalla scrivania. Credo che sia un tabulato. Senale. Sette chiamate agli uffici della lotteria.